E' una strage, chiamate le cose con il nome, strage, non glielo prega un cazzo! Cinque morti! Sono vite, non sono audience, sono cazzo di vite queste, lo capiamo o no? Signore, il problema è che questo quartiere sta vivendo un ecomostro qua, la TAV che sta distruggendo tutto, per cosa? Cinque morti! Cinque morti! Cinque morti! Non vi dovete girare verso di me, vi dovete girare verso i blindati! Giusto, che cazzo ci fanno i blindati? I blindati, a cosa servono? Cinque morti, a cosa servono i blindati? Me lo dice! Come sono potute succedere? In sei mesi avete tirato su tre piani di palazzo! Chissà come mai! Come può succedere? Appalti degli appalti, dei subappalti! E la gente muore! Non è una tragedia! Però quelli là vanno a pezzare chi sopra! E probabilmente la conoscete anche voi la realtà degli appalti! Una morte bianca non è una tragedia! Non è una cosa che capita! È colpa di questo capitalismo di merda e dello Stato! Che è volta e subappalta per risparmiare sui lavoratori!